Anche perché conosco Fabrizio da quando era sindaco di Visinto e da allora l'ho seguito in modo sempre abbastanza critico, non gli ho risparmiato gli scappellotti sulla testa ma devo dire che si è sempre raddrizzato e è sempre tornato a fare il bravo ragazzo. Non ho la mentire nei suoi confronti, posso solo dire che ha sempre operato con grande onestà trasparenza, amicizia, quindi sempre dando ascolto alle istanze che venivano dalla gente e non solo dalla gente, anche da amici che magari godono una certa reputazione, non potevo essere io ma sempre con la sincerità di poter dire questo è giusto, è in sintonia con il nostro modo di pensare di fare politica e mi ha detto anche dei no. Io li auguro quindi in questo momento in una competizione che ci vede non in salita forse non in discesa ma sicuramente in un piano quasi discendente perché avete governato per 5 anni in modo egregio, l'onda è favorevole, si vota in un'unica tornata sia per le regionali che per le nazionali e questo credo che sia una cosa molto positiva per noi. Quindi credo che abbiamo, tu abbia tutte le carte in regola per avere un buon successo.